musica 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 in effetti muore sempre assolutamente manco il tempo io mi muore portail oh la prigione, vuoi andare a prigione Alberto? tu vuoi andare a prigione prima? andiamo adesso mi piace la prigione l'ho visto io non puoi giocare bene mi hai detto che non puoi giocare che non posso giocare bene beh se si mette sdraiato tipo rilassato ovvio che si infatti che senza il microfono non puoi giocare bene niente vedi che io quando gioco il microfono gioco anche meglio eh mi concentro di più nel gioco non mi concentro a parlare no è perchè se tu che parli a cazzo se parlassi solo per le cose del gioco sarebbe meglio se tu parli di internet di youtube perchè credo che l'opinare ecco a dire il gioco c'è già un gioco poi c'è due gioco ora c'è l'ultima di mangiare se la tua vita e la tua storia di vita e tutto quanto non è la mia vita ma no 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 bello è pompa bello è pompa ma come assarmavo bella fucile da caccia è un po' come il pompa è un cecchino ma fa caccia no è un cecchino ma fa cacando dico robo ma c'è raffica verde se vi interesse no vabbè non ci credo per tutto il giorno ma dato ci spuglio e balestra ma va fa ancora dalmeno dimmi ricorda anche a me ha dato anche a te spuglio spuglio e balestra dio caro a bello ma nascimi qualcosa almeno min mi faccio due pompa e basta però per amore per amore per amore dove capiglia per l'opinione problemi spigli spuglio e balestra peggio di così non si potrebbe bello però c'è spoglio per amore per amore per amore per amore per amore scatta ma bella un po' ma non è una macchina qua macchina ma 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 voce marco ma ma un po' ma dove credo di fattoria ma le a te fuori qua le pagine e non so cosa facciamo anche io e lei lo pio ma non c'è tanto tempo eh però io tutto no ma non ci facciamo si fa il indegno lo fai anche ma no ce la fai però no quello che non ho mai lungo io non so che sarebbe più se il dato di le partite in raffina blu sinceramente so bene io appunto 4.1 ma trovata un'esperienza di roma stanno i giorni dove prendere quindi abbatto un abbatto da destra c'è tesoro ragazzo di albero prendere qui sull'albero non c'è però se spacchi gli alberi con i grossi ti da un tacco di legno subito di volendo non c'è già 5 centi di euro un punto di amore però per cui non ho faccio il tesoro almeno poco c'è un corso e la volta scala scambianti scambianti ora per la scatola operano voglio anche noi dopo il matrimonio rifare che ok ognuno prendere dove venire con me a piazza non ho appena un altro per me e allora non c'è la materia cazzo di cisne vediamo caso il nuovo loggio scelte la tendiamoci oltre a dire che non è un concorso corso commercio la moda dai pure i salti si ci mettono però sono le andere c'è la presa eh eh adesso però sono fottuto adesso però io non ho mai gli scudi non c'è un cazzo eh devi eh non c'è un no corrette ragazzi sta arrivando e mmm cos'è un po' verde forse non so bello bello dai l'arm4 verde sera c'è il tesoro lì la piglia dai dammelo uno scude di merda però no come si è finita non so 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 ci tempo ah corri 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 non fermarti berk per per valore che è il blu 2 alberto passi l'ho per te mi prendi prendi tutto lento niente riuscito non ci sono troppo distante troppo distanti lavati di un amore non lo faccio molto no uno mio canzoni distantissimi porca di quel punto tana ma questo mi vicino in mi sei non non salio scuola non avete per me niente uno si uno grosso però c'è i mini scudi alberto si ci sono gli scudi dai mini i mini scudi alberto ce li hai rispondi i puttana tra gli anni si no eh dagli altri uno due dai eccomi ecco me come viene quando 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 ho bisogno di dire che c'è tanto lo stesso tisi troppo lascio cuore a edo scartare no 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 ma ripeto però sto qua il video ciao no 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 capisco gioco non lo vedi di scudone no 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 ma corri almeno no 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 se lo facciamo e che sezzeci quanta di mio fece io ero tolto simbili gcd il contrario parlo con i miei minuscuri alle c'è un kit comunque abatto quel kit la produzione bene dopo mamma dei tt che c'è il matrimonio il domenica carta posto di benvenuto 2 cd il giro carlo per un po' di vigno nel sudottocento per occhi voglio andare ecco la la testa ritorno in i miei ricordi cdm e riconoscendo perciò per un giorno un po' la sua domanda di tolberto quando è vero che si dice non è tanto veloce la bellezza delle piccine ma comunque c'è la voce ma c'è per lo stesso per la città ma c'è il tesoro libero o quando creato come piccane indizioni quando non prende inizia il più leone di scopo città legna per tocco ora damme un po no per io dove tutto quanto per lo scadoglio dalle grazie è il studio dopo quello vuol dire di pulmona e vete ci sentiamo scopo a mila e scopo tutto e le sede del mar la gente non puoi rimanere azzare c'è un punto cantiglio quando ci si riuscì tuttavia si chiude quarta città c città eccoli 300 e il suo corpo un po' un culo faccio vedere un sito operato che c'è chi non lo provo non lo pigliato ma buongiorno pregi per ora come noi c'è ricorda cosa per te eccoli eccoli pari a quello sparagli quando c'è uno qua ma che 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 mi fa ehi tu come creo bene per la prima vita stica ma è stato un materiale sbagliato questo rumore pure per te non per parte il padre per la casa è caduta questa spaccato tutto spaccato oh ma c'è gente anche a 195 ci spano ci spano penso non sono sicuro non riesco a vederli però ah l'ho proprio da tre volte che è non lo guardano fermati mi ha dato lo scudo a quello eh un po' ma l'ha fatto come sbucca guardatelo beh c'è chi io purtroppo ho preso minchia minchia ma quante metterite ci sono però no non so come sta per finire la stagione l'ultimo giorno eh eccole dietro dietro su desto eh dietro l'albero fermo fermo no che cazzo fai eh sono dietro ma che fai ma perché sei dentro di me oh che fai ma perché sei entrato nel mio no vabbè che cazzo fai ma perché sei entrato nel mio fortino che ci fai qui vaffanculo no vaffanculo tu e tu è dietro eh eccole qua sotto qua sotto eh eccole qua sotto qua sotto eh eccole qua sotto qua sotto eh chi è? eh dobbia dove è? come è carlo? oh è qua eh ma è più di puttana no c'è il ciclino quello nooo chi è che ha creato i muri così sopra quale andro vaffanculo no ma pure gli sparan quello però aspeh non so boh non so non so non so dove sei? eh mi hai chialati muri dietro le logiche con sparare un'amica uccidono dio cazzo eh se tu dovevi stare più basso porca puttana però quanto alto vai dio cazzo mi giacchi no 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 che fai oh eh che fai ma c'è ancora uno vivo lì io provo io rischio eh sì uno avevo finito a morte però non so scudo scudo qui? no c'era uno scudo mi piace di qualcosa c'era uno qui ah mi sa non è un uomo ma tu e quello comunque ecco 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 ma ecco 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 e fin ha fatto qui ho lasciatemi qualcosa vuoi o mi ha detto calcare oh per 2 cb no ma che cc ecco no copritemi ed io che n lo che non vieto l'area dove dov'è il sud è una sparta da sud ah, è dietro via nooo, non esplodono figlio di puttana vai a pusciallo, va a pusciallo nooo no, io sei una puttana la cosa ballerina li ho lanciato o lasciamo la munizione a me no, lascimi i proiettili del RPG, porca puttana oh, pad vabbè, vabbè la sei pera oh, ma ci avete colpi dei lanci granate vabbè 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 oh, è caduto qui eh chi ha per un pezzo ancora siamo tanti, eccoli a 340 nord ma quelli sono nabbi ma c'è uno che è per terra lo vogliono cercare di salvare guardali eh quel cazzo però eh è morto ma sono in 3 allora quelli ma allora c'è uno da solo allora da qualche parte che 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 medi o che 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 Ah, ti puoi mettermi un high walk vai na E' un rollo, deve essere che faipera come sparate dove sparo con la rifugina? eh ma non la colpisce morto? quello è morto nella cosa ho uno eh? ma chi è sotto di me? sotto di noi? ma scudo lì eh, è un figlio questo oh ma questo che ha asplodere, ha fatto asplodere tutte cose sti cazzo di eccola è buoni oddio ciao 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 ciao